Grazie La cosa fondamentale che vi chiedo è questa Da domani mattina non voglio vedere se io faccio scure o punti di domanda sui vostri voti Non li voglio più vedere Da domani mattina si comincia la campagna elettorale Avete fatto una scelta Io ho chiesto la votazione in assemblea al mio partito che non si decideva Ho detto o sì o no Se no vado a casa e mi ritiro e vado tranquillamente in missione Perché non ho mai avuto l'intenzione di occupare sedie come qualcuno va dicendo Io non voglio mai occupare sedie, non le voglio Se servono la mia città sono a disposizione Se non servono la mia città questo non vuol dire che non debba fare grandissima attenzione Quello che avete proposto E quello che avete proposto è fondamentalmente questo Cambiamo il gesto